E' di 70.000 euro il costo dell'emergenza neve per il comune di Fano, ai quali vanno sommati quelli in via di quantificazione per il ripristino delle condizioni di normalità, leggi chiudere le buche, che verranno fronteggiati con risorse ordinarie e straordinarie, non essendo ancora stato riconosciuto lo stato di emergenza che resta comunque a carico della regione. E' un conto salato quello che il Buran ha presentato alla fine della sua scorribanda, ma l'emergenza è iniziata ancora prima del suo arrivo, ovvero il 23 febbraio, dove sono piovuti oltre 50 mm di acqua in 24 ore, causando 13 fenomeni di dissesto idrogeologico e l'evacuazione di due nuclei familiari, oltre a innumerevoli interventi per allagamenti. Poi dal 25 febbraio ad oggi è stata emergenza neve, 23 le ditte esterne impegnate, turni massacranti di oltre 13 ore giornaliere per ogni squadra, 35 mezzi di cui due spargisale impegnati H24. Inoltre volontari di protezione civile, polizia locale, di stato, carabinieri, sindaco, assessori e tecnici del comune in allerta continuo. I numeri di una macchina dell'emergenza veramente imponente. Noi abbiamo convocato con anticipo, seguendo anche le indicazioni meteo, il COC, ma quest'anno abbiamo in questa casa, abbiamo fatto anche qualcosa di più, anche al di fuori dei protocolli, e c'è quello di coinvolgere anche tutti i dirigenti dei vari settori dell'amministrazione comunale, in modo tale che nel momento del bisogno ognuno sapeva cosa doveva fare. Certo tutto non è ancora stato fatto, sotto gli occhi di tutti diverse strade ancora piene di neve e cumuli imponenti, stazionando in angoli della città, ricordano che il peggio è passato, ma che non è ancora l'ora di tirarsi giù le maniche. Un altro elemento che mi sfuggiva e che volevo sottolineare è la gestione dei mezzi pesanti. Cioè la città non si è accorta che ci sono stati dei momenti in cui la città era piena di mezzi pesanti bloccati agli accessi dell'autostrada, e qui sono stati tutti coordinati e anche quelli in panne tra i nati, senza che ci fosse un camion di traverso che bloccasse la città. Se pensiamo Fano bastano 3-4 camion in strade diverse per creare il caos. In realtà tutto ha funzionato in meglio, quindi allora grazie anche a tutti gli uomini e donne che hanno volontari, dipendenti dell'amministrazione comunale, forze dell'ordine, polizia, veramente tutti coloro che hanno fatto la loro parte. Un grazie di cuore e penso sia anche il grazie di tutta la città. Grazie.